Saranno oltre 250 le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Provinciali e Municipali impegnati nelle giornate di sabato, domenica e lunedì a controllare il rispetto delle misure anti-Covid in vigore per il weekend di Pasqua. Il potenziamento dell'azione di controllo durante le festività pasquali, già discusso durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato confermato ieri durante il tavolo di coordinamento tecnico-operativo svoltosi in quest'ora. Osservati speciali dove si concentrerà quindi maggiormente l'attenzione degli agenti saranno anche a Pesaro le aree verdi, i parchi, ma anche la zona mare e quella del porto, insieme ovviamente alle aree di maggior richiamo turistico dell'entroterra. Saranno intensificati inoltre con il coinvolgimento della Polizia Stradale e delle Polizie Locali i controlli sulle principali arterie stradali della provincia. Nessuna chiusura prevista in città dunque, ma un'implementazione dei controlli dei vigili e delle forze dell'Ordine per scongiurare in primis situazioni di assembramento, verificando ad esempio che le passeggiate dei cittadini avvengano come previsto nei pressi della propria abitazione, nel quartiere di residenza o nell'area verde più vicina. Anche il prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, ha ricordato l'importanza del rispetto delle prescrizioni in vigore. Nei tre giorni a cavallo delle festività pasquali, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, in cui è prevista la zona rossa a livello nazionale, gli unici allentamenti previsti rispetto alle giornate precedenti riguardano le visite nelle abitazioni private. Sarà consentito infatti una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra casa privata all'interno della stessa regione tra le ore 5 e le ore 22, ad un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi all'interno dell'abitazione di destinazione, che potranno portare con sé figli minori di 14 anni o persone disabili non autosufficienti. Gli altri spostamenti sempre consentiti riguardano soltanto situazioni di necessità, salute o che alla base prevedono motivazioni lavorative. Sempre consentito invece il rientro presso la propria residenza o domicilio. A livello regionale sarà in vigore fino alla mezzanotte del 5 aprile l'ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli che vieta ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle Marche di raggiungere le proprie abitazioni diverse da quella principale e quindi le cosiddette seconde case presenti sul territorio regionale. Nell'ultima settimana i controlli riguardanti gli spostamenti sul territorio pesarese sono stati 3.642 con 89 sanzioni, di cui 49 sollevate nella sola giornata di domenica 28 marzo.